Ciao a tutti i video-elettori del capoluogo e bentrovati in questo giro, non saremo a grand'angolo ma siamo in una trasferta, una bellissima trasferta dal clima natalizio che parte da una location fantastica in Tussio che tutti conoscerete, insomma questo splendido borgo vicino l'Aquila e ragazzi non so se stiate guardando le immagini ma si vive delle situazioni stranissime, diciamo il Natale, questa grotta che è un pezzo di una casa molto importante e molto bella che è di due personaggi che tra poco conoscerete, che però prima di conoscere ci hanno consentito di fare un giretto per casa loro, cosa stranissima perché ne sono molto gelosi e non sempre amano mostrarla, intanto vedete questo splendido addobbo di Natale, questo albero che francamente ne ho visti pochi in vita mia perché ci faremo spiegare anche come lo abbiano realizzato, intanto abbiamo finito la spiegazione, venite con me che continuiamo il giro, cambiata assolutamente la location, un pezzo della location, siamo adesso in una splendida sala da pranzo, lo stile devo dire è assolutamente identico, stile di grotta, Natale, ragazzi, cioè a fagiolo, continuiamo un attimo a camminare, vedete un po' perché ci sono due persone che dobbiamo assolutamente presentarvi, non fosse altro che perché sono i padroni di casa e quindi mi sembrerebbe anche poco carino escluderli assolutamente dal nostro gioco di Natale. Eccoci qua, quindi ragazzi abbiamo alla mia destra Angelo, ciao Angelo, grazie a voi, Umberto, grazie anche a te, ma mi dicono che chi decida sia Angelo e quindi io mi rivolgo a lui, è vero Angelo, mi sembra anche perché tu sei colui il quale cucina e io girando perché ho sentito un profumino, un profumino, poi mi racconterai bene di che cosa si tratta. Torniamo a noi, ragazzi vedete una tavola imbandita in questa splendida sala, imbandita in maniera, devo dire, molto, molto accurata, direi tutt'altro che scarna, con oggetti su pellettili o come le vogliamo chiamare, insomma molto, molto particolari. Da chi? Da Angelo e Umberto che sono, chi sono? Angelo e Umberto sono due ex dipendenti all'Italia, mi sembra di aver capito, che non si sa come, non si sa perché, a un certo punto della loro vita, sono finiti in questo territorio, hanno deciso di prendere questa casa e di poter godere di quello che è il paesaggio di Tussio e di tutta questa splendida valle che ci circonda. Due appassionatissimi del territorio abruzzese, che devo dire la verità, io ho conosciuto un paio d'anni fa, no ragazzi, forse un paio d'anni, ho cercato assolutamente di portarli vicino a casa mia, ma siccome sono molto esigenti, molto particolari, non si sono accontentati di quello che noi si potessi offrirgli e hanno scelto Tussio, peraltro insomma Borgo assolutamente straordinario. Allora, io comincerei con Angelo, Umberto ti dispiace? Prima con le persone anziane, bravo, bravo. Allora, Angelo, io vedo che qui avete curato questa casa in maniera molto 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 dettagliata e ogni cosa, mi sembra aver capito, ogni oggetto mi pare abbia un significato particolare, però noi oggi partiamo da questa splendida tavola, visto il clima natalizio, siamo vicini al Natale e raccontaci un po' questa tavola. Io preferirei raccontare della cucina perché della tavola se ne è occupato Umbertino. Ho sbagliato tutto, allora, no no, dopo quando andremo in cucina allora parlerai. Però della tavola si è occupato Umbertino e lui ci tiene tantissimo perché giustamente dice sì, si può mangiare ma bisogna anche vedere dove si mangia, anche l'occhio è la sua parte. Questa è tutta opera di Umberto. Perfetto, allora posso aggiungere una cosa? Le decorazioni e tutto quello che ci circonda è opera mia. Sì, ne parleremo dopo. Però quello che ci interessa molto è la cucina e poi faremo una puntatina. Quindi io chiedo scusa, rewind, ricominciamo, bellissima tavola Umberto, però questa tavola mi accennavi è fatta di tante piccole storie. Raccontacela un po', dai. Questa tavola in realtà racconta la nostra vita, il nostro mondo, i nostri anni trascorsi in volo per l'Alitalia dove ogni cosa, io soprattutto ho fissato per le tavole, era scelta con tanto amore. Per esempio nell'87, ancora me lo ricordo, presi questo sottotovaglia con i tovaglioli e il runner da Bloomingdale's che ero capitato per caso sotto le festività natalizie, mi innamorai, tornai in albergo e poi sono tornato nuovamente da Bloomingdale's per comprare la tavola di Natale. I portatovaglioli che sono dei piccoli alberelli con le copribottiglie sono stati acquistati a Bangkok da alcune suore che realizzavano queste cose per i bambini orfani. E quindi noi capitamo lì per caso, io mi innamorai sia per dare un contributo qua e là e abbiamo preso diverse cose da queste suore. E poi c'è tanto amore che posso dire, io dico sempre una cosa, può piacere o non piacere, però sicuramente è una casa amata questa. Che sia una casa amata lo si vede, purtroppo i nostri video lettori come li definisco io, non saranno in condizioni di poterla apprezzare fino in fondo in ogni minimo dettaglio. Come ti dicevo, lo si vede dalla cura del particolare, nulla è banale, poi parleremo anche di un paio di cosine con Angelo perché mi pare di aver capito che poi c'entri tu. Ma questa passione, che io trovo anche un po' lontana da me, come dire, io ho tutta questa voglia di mettermi a curare ogni minima scelta, a rifletterla, questo sembra, posso dire, quasi finta, cioè finta nel senso che è costruita in una maniera, in una maniera... Hai ragione. Sai che è finta. Sì. Che è molto costruita, molto studiata e molto pensata, fatta da un perfezionista, da un Berto. Sempre da un Bertino che... Posso dire, posso dire, è il piacere del ricevere, perché devo fare una promessa, è una premessa. Noi, la nostra seconda casa quando si volava era l'albergo, quindi per noi non esisteva Natale, Capodanno, perché potevamo, io ho trascorso un Capodanno a Tokyo, un Natale a Brasile, a Rio de Janeiro e quindi eravamo anche soli, tra virgolette. Peraltro Natale a Rio evoca un cinepanettone. Esatto, un cinepanettone. Quindi l'idea poi è di ritrovarsi a casa, con le persone a cui vuoi bene e quindi dare proprio tutta una serie di emozioni, di sensazioni e anche una ricerca di valori che ultimamente si sono persi. L'arte secondo me di aggregazione, di stare assieme nella maniera più sana e più positiva possibile. E questo si vince anche, Umberto, non solo dal tipo di arredamento, dal tipo di soprammobili, insomma, come dicevamo, si vede essere proprio ricercati e molto studiati, ma si, e voi non potete saperlo, ma ve lo dico io. Quello che ha appena detto Umberto si evince anche dal tipo di rapporto che loro abbiano da subito instaurato col territorio. Da appena arrivati sono stati formalmente, idealmente dichiarati cittadini di Tussio, sono riusciti a inserirsi con gli autoctoni. Bella questa. e soprattutto stanno manifestando nei loro confronti un affetto e un atteggiamento proprio figlio di una sensibilità che poi porta anche ad avere cura di questi particolari. Angelo, però raccontaci un po' come ci siate realmente finiti, io l'ho sintetizzata così, buttata in maniera, perché forse voi non lo sapete, ma questi sono due VIP, poi vi racconteremo magari anche un'altra volta in realtà chi siano. Dopo 25 anni passati in Toscana, sì sì sì, esperienza bellissima con un bel casale che era diventato un pochino troppo impegnativo perché bisognava starci molto appresso, quindi si è deciso di vendere il casale e con Umbertino abbiamo fatto dei giri da queste parti, ci abbiamo messo un po' di tempo e siamo arrivati a Tussio e la cosa che ci ha colpito, e devo dirlo proprio sinceramente, è la gente, la semplicità della gente, la generosità, il tipo di amicizia che ci hanno dato da subito, quindi ci hanno proprio conquistato, siamo diventati amici praticamente di tutto il paese, non ci vuole molto perché adesso siamo in 32 compresi noi, però d'estate si ha una settantina di persone con le quali si condividono tanti momenti piacevoli, non più tardi di ieri sera chiedo scusa, siamo andati a cena tutti quanti con queste persone stupende che stanno organizzando nel borgo di Tussio le grotte per Natale, i mercatini di Natale e Tussio è piuttosto famoso per questo. Devo dire che poi peraltro ha anche visto, come dire, nascere un'iniziativa ricettiva molto 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 carina che noi abbiamo avuto modo di vedere e anche di presentare con il capoluogo. Questi tovaglioli, Umberto, ce ne avranno anche loro una storia e un perché? Sì, i tovaglioli con i runner presi a New York, però la cosa divertente che vorrei far notare, presi in Canada in un mercatino tutti questi vecchi sotto bicchieri della Coca-Cola, uno diverso dall'altro, sicuramente saranno anni 40, io mi sono innamorato e li ho presi tutti e quindi c'è anche una storia in questo, però volevo fare, riallacciandomi al discorso di Angelo che anche grazie a voi, quando siamo venuti per la prima volta dopo aver venduto il casale in Toscana e volevamo, io dico sempre che nella vita bisogna sempre mettersi in discussione, non c'è età e bisogna voltare pagina e noi siamo andati alla ricerca di un posto che non fosse più la Toscana, in montagna, non distante da Roma e siamo capitate a Fagnano dove abbiamo avuto anche la fortuna di conoscervi e da lì ci siamo innamorati di questa zona e piano piano, siamo ringraziando il Dio, riusciti a trovare la casa che era più consona alle nostre esigenze. I tovaglioli? I tovaglioli sempre Bloomingdale's, ecco, sì, poi ci sono due… Avevo sentito la tovaglia prima da Bloomingdale's, cioè no, 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 no… Rannere i tovaglioli. Vabbè ragazzi comincio ad avere un'età, cosa volete, mi distraggo, poi con questo clima così insomma è emozionante, è emozionante. Angelo, io adesso ti proporrei però una cosa, io vorrei seguire un attimo quel profumino che ho sentito, che ho percepito prima passando dalla cucina che poi più che una cucina sembra, 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 non lo so, una sala, sembra un museo, cioè museo nel senso positivo, cioè del termine. Sto preparando per domani, sto preparando per domani, per domani perché avremo credo 14, 12, 12 persone e mi sono un attimino avvantaggiato. Mi ha iniziato quindi le danze stasera? Se no domani verranno a pranzo, a colazione, quindi non avrei fatto in tempo a organizzare tutto quanto, mi sono avvantaggiato. Quindi con l'addetto alla cucina, caro Umberto, io andrei un attimo, un attimo, un attimo di là, ma voi potete anche seguirci. Eccoci qua con Angelo, perché avete già conosciuto, abbiamo già conosciuto, siamo fatti un bel giretto, questa casa comunque è una sorpresa, è una sorpresa continua. Tanti angoli. Tanti angoli e nessuno trascurato, nessuno tralasciato, cioè ma questo sarebbe, ragazzi, l'angolo vettovagliamento è la cucina, quella che loro chiamano cucina che sembra una sala da re, cioè proprio... Adesso è un po' addobbatella. Addobbatella, ma perché vogliamo parlare dell'addobbo? Sì. Cioè, ma sarai un po' matto anche tu? Sì, sì. Sì, sì. Non è solo una mia impressione. No, 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 ci vuole un po' di pazzia dentro questa casa, poi tra l'altro chi un po' di più, chi un po' di meno, un po' matti siamo tutti a due, perché altrimenti non si farebbero tutte queste cose qui, però bisogna dire che c'è quel po' di infantile e in noi che ci fa stare bene comunque. Quella piccola vena di follia infantile. Infantile. Ecco, sì. Ci vuole, ci vuole. E dicevo, ti stavo dicendo, questo splendido addobbo, ma quanto ci metti a fare questa roba qua, Angelo? Ci vuole solamente un pochino per andare a prendere questi rami, il resto proprio va da sé. Va da sé. Un po' di inventiva. Sì, eh? Un po' di inventiva. Qui bisogna stare però un po' attenti perché sembra quasi un allarme perché uno un po' alto che passi di qua fa scattare l'allarme e qui stiamo arrivando adesso in quello che è il vostro tinello. Ci siamo dimenticati una cosa. È vero. Angelo, Angelo, siamo imperdonabili proprio, eh? Siamo indietro. Cioè, non si... Ecco, un attimo, stiamo vedendo questo meraviglioso angolo. Cioè, di dove non ti ha scurato nulla, Angelo? Cioè, tu domani hai persone a pranzo, hai già preparato per l'agenziano? Devo dire, onestamente, che l'ha preparato Umbertino perché il precisino... Ma io non ne azzecco una, però. Eh, Angelo, ditemelo prima, no? E parlo con te ed è roba sua, parlo con lui ed è roba tua. Cioè, volete farmi far buttafigura? L'abbiamo fatta insieme. L'avete fatta insieme. Vedevo questo splendido cesto. Cioè, devo dire, è tutta roba banale, Sì, Milano. Sì, roba cinese. Un copri panettone. Tutti hanno un copri panettone così, Angelo. Ma non lo dovevi alzare, non c'è il panettone solo. Vabbè, non è ancora Natale, stiamo aspettando perché immagino che il panettone sarà rigorosamente artigianale, sarà rigorosamente fatto il giorno del territorio, fatto il giorno prima perché non è possibile farlo conservare più di un tono. Qui in Abruzzo? No, ma che qui in Abruzzo? Qui nel raggio di 10 km, mi auguro. Ah, va bene, sì, va bene. Certo. Però 10 km è tanto. È tanto. A questo poi ci penserà, penso... Eh, Umberto, ci pensi tu al panettone? Sì, sicuramente, ho già pensato. Qui vicino c'è un famosissimo forno dove realizzano a livello pasticceria, a livello anche di pane qualsiasi tipo e quindi noi ci rivolgiamo soprattutto per promuovere i prodotti locali. Sì, questo è un territorio che merita, dallo zafferano al tartufo e non solo. L'alcolico di casa, eh? Abbiamo trovato l'alcolico di casa. E quindi stavamo dicendo che il panettone ci pensa lui anche perché abbiamo detto prima lui con i cine panettoni è ferrato, insomma è di casa, è di casa. Questo è il vostro tinello. Ragazzi, che vi devo dire, tutta roba di Kea, come dicevamo, no? Sì, naturalmente. Sì, guardate che splendido vassoio in legno. Questo parla toscano. Questo parla... Allora già... Anche del casale di cui parlavamo prima, sì. Ho capito, per forza rimetterci sta toscano, sicuramente, per favore. No, noi vogliamo promuovere l'Abruzzo di questa zona, la zona... dove viviamo perché merita e bisogna far conoscere questa zona, che pochi apprezzano e pochi conoscono. L'Abruzzo è poco conosciuto ed è un peccato. È una regione bellissima, un po' chiusa, che bisognerebbe far conoscere di più. È chiusa la regione o sono chiusi gli abruzzesi? Non è assolutamente vero, gli abruzzesi non sono chiusi. Non sono chiusi, questa è una buona notizia. Bisogna promuovere però, bisogna promuovere assolutamente questa regione che ha tantissime cose che non sono... Noi stessi siamo rimasti sorpresi nel conoscere dei posti da Bominaco, ovunque. C'è una storia, c'è una cultura incredibile. E non esiste solo la Toscana, assolutamente. E questa mi sembra una bellissima dichiarazione da parte di Angelo, di Umberto. Chiedo scusa. Angelo, io credo che siamo arrivati alla fine anche perché rischieremo... Sono talmente tali e tante le cose che... le meraviglie dentro questa casa che passeremo una settimana a raccontarvi e diventeremo anche monotoni. A parte che prima o poi ci rivedremo perché un giorno si è invitata a pranzo anche a Angelo. Ancora, sicuro. Già siete venuti? Ma una volta, non ci vuole dire a due. Adesso io però chiuderei con un passaggio rapidissimo davanti a uno splendido oggetto, chiamiamolo così, per mettere un po' di suspense, che ho visto in sala prima quando sempre... Non ci ho fatto caso, che cosa stavi guardando? E adesso te lo farò vedere e poi... Oh ragazzi, un brindisino, ce lo facciamo, eh? Almeno quello. E raggiungiamo la sala da pranzo. E quindi come stavamo dicendo poco fa, questa casa ogni tanto, ogni piesso spinto, rivela oggetti particolarissimi, dettagli straordinari. Tornando verso la sala da pranzo, dove poi con Umberto e Angelo avevamo già preventivato un brindisino augurale per Natale e mi sono imbattuto, almeno il mio sguardo è caduto sopra questi splendidi gnomi dipinti a mano da Angelo. Angelo. Gli ho fatti io, li ho fatti io tanti anni fa, ci tengo tantissimo e diciamo che nell'insieme degli addobbi, con l'albero, con questa strana passamaneria che tutto, sembra tutto casuale ma è tutto abbastanza studiato, tutti questi gnomettini che fanno parte proprio di un certo modo di considerare il Natale. Gnometti, questi festoni qui che sono stati fatti da Umberto e da me uno per uno, ci hanno tanti anni anche questi qui, però fanno proprio Natale. E poi c'è un'altra cosa bellissima che presenterai tu adesso e te la fai vedere Umbertino, quella razza che sta lì dietro che è un'altra chicchetta. Tra un attimo sarò lì perché mi sembra di capire che comunque per voi il Natale qualcosa la presenti perché tutte queste attenzioni a casa mia avrebbero pagato perché io ne potessi avere il 10% delle vostre attenzioni. Potrebbe essere l'idea, risolveremmo il problema di chi faccia le cose a casa, grande Angelo. Adesso mi sposto un attimo perché c'è Umberto che ci deve far vedere una cosa che a me ha colpito tantissimo prima ed è questo meraviglioso razzo. In uno dei miei viaggi presi questo razzo e noi ci teniamo tantissimo. Poi vorrei dire, per concludere, una cosa sul Natale. Noi abbiamo avuto un'infanzia dove eravamo veramente felici con poco. Io mi ricordo ancora anche alla Befana che eravamo felici con la calzetta rammendata dove c'era il mandarino, la noce, un pezzo di carbone. Come ha detto giustamente Angelo, siamo rimasti bambini e per noi il Natale ci riporta anche in un mondo che purtroppo tante persone care non ci sono più. Però vogliamo viverlo sempre perché si va avanti e rimanere con quella spensieratezza che avevamo quando eravamo piccoli. Ecco, ti ripeto, che ci fosse qualcosa si era compreso. Io direi, cari direttori del Capologo, che non faremmo a tempo a mostrarvi tutte le meraviglie che questa casa nasconde, tutte le meraviglie realizzate, cercate e volute da Umberto e da Angelo nell'arco della loro vita insieme. E però, ragazzi... Un brindisi! Esatto, perché se no tutto sto macello l'abbiamo fatto... Per te? No, per me, perché? Per te? E' grande ma ce n'è poco. Ah, vero, eh? E' a fregatura, eh Angelo? C'è un trucco, c'è un trucco. Perché d'altra parte se uno non sta da fregature nella vita non è nessuno. Eh no, che... Che scienza! Auguri! Auguri a tutti voi videolettori del Capoluogo e un arrivederci a presto anche con Umberto e Angelo. Grazie. Grazie.